Welcome to the power mansion and to the free for all challenge Let's go baby, benvenuti con questa intro un po' divertente per chi sa l'inglese che ho fatto pure il bocione, sono qui per proporre una sfida da fare su Twitch oggi perché ieri porca troia, diciamolo, la mia Xbox One ha perso la sua uscita ottica quindi è diventata sorda, anzi è diventata sorda per me, non posso più sentire niente sull'Xbox One la devo mandare in assistenza, quindi ho deciso, oggi facciamo uno streaming porca troia che inizierà per le 4 in questo caso, in cui dovrò vincere ben 75 free for all in verità ne devo vincere 70 perché 5 le ho già vinti dato che stavo facendo free for all e non sapevo dell'esistenza di questa cosa nel mercato nero andando sul mercato nero, quindi nella sezione di pubblica, c'è la sezione contratti dove potrete avere delle ricompense vincendo 75 partite in free for all quindi ho detto, cazzo, ma lo facciamo subito queste cose quindi facciamo questo cazzo di, diciamo, maratona su Twitch oggi in cui devo vincere ben 75 partite in free for all quindi non vedo l'ora di farlo, venite a vedermi, venite a supportarmi venite a scegliere le armi con cui devo vincere anche alcuni free for all perché alcune partite le vorrò fare in questo caso con le armi scelte da voi che magari mi mettete un pochino in difficoltà quindi questa è una bellissima idea secondo me potrebbe essere una bellissima live molto divertente e potrei sboostare una delle armi che magari voglio quindi spero vi sia piaciuto questo video spero vi sia piaciuto questa iniziativa da fare su Twitch quindi ci vediamo oggi se Twitch non andasse, se ci fossero problemi perché ho visto ci sono stati molti problemi per gli streamer italiani non vi preoccupate la live la facciamo su YouTube quindi non vi preoccupate un modo si trova, porca puttana e speriamo che Telecom, Telecom Bastordo questa volta faccia funzionare la connessione che sta dando dei problemi incredibili comunque ragazzi ci vediamo oggi per le 4 in streaming sempre acchittato con questo set come vedete con questa suite maglietta di Black Ops 3, cappello di Black Ops 3 occhiali tamarri e si va a comandare su Twitch let's go baby ci vediamo più tardi mi raccomando vi voglio tutti qui pensavate il video fosse finito eh pensavate questo qui è fatto per vedere chi è che si vede il video fino alla fine e questo è fatto per premiare chi è che si vede il video fino alla fine ed ecco qui il premio ancora non l'ho sbustato non so ancora cosa c'è sono molto curioso quindi andiamo a vedere subito cosa c'è qui dentro mi è arrivato un pacco questa volta della Control Freak e in questo pacco più o meno ci dovrebbe essere quello che so già un Control Freak ammazza power se è capitano ovvio bene ragazzi io questo Control Freak voglio darlo a qualcuno di voi che segue i video fino alla fine che viene in streaming che sa tutte queste cose quindi ecco qua non ve lo faccio vedere scherzo me lo vedo prima io allora ragazzi quello che vi sto per far vedere sono i nuovi Control Freak fatti per l'uscita di Call of Duty Infinite Warfare non so se si riescono a vedere bene ma sono particolari non sono nemmeno alti sono una misura media più o meno e io giocherò con questi Control Freak durante la sfida di oggi di Twitch vi dirò come sono vi dirò comunque se servono eccetera eccetera e voglio dare la possibilità a uno di voi di vincere questo pacchetto che gli invierò proprio io personalmente quindi non vi preoccupate vaffanbene la Control Freak che ci mette un mese a farvi arrivare una cosa dall'America no scherzo per i giveaway però è così li mandano dall'America quindi ci vuole una vita per quanto riguarda comunque questi Control Freak li metterò in palio quindi su Twitch per quelli di voi che sono rimasti a vedersi questo video fino alla fine anche dopo la mia diciamo mossa finale dalla James Bond quindi ovviamente mettete mi piace a questo video spolliciatelo e venite oggi in streaming tutti che faremo il sorteggio prima o poi di questi Control Freak di Call of Duty Infinite Warfare chiamati Scar quindi spero vi sia piaciuto questa idea di questo giveaway spero vi sia piaciuto questa idea di questa challenge su Twitch e spero vi divertirete oggi con me sperando che non ci siano altri problemi come ieri Xbox One Rotta e connessione che non andava grazie Telecom ti amiamo sempre quindi let's go baby ci vediamo più tardi in streaming let's go